Buonasera e benvenuti al recap ciclico di due mercati con la ciclica evoluta, ovvero del DAX e del Fuzzimib. Faccio una piccola premessa, prossimamente mi troverete in esclusiva su YouTube perché sembra che, sembra, sottolineo, che TradingView preferisca tutelare chi copia beceramente il mio assetto grafico che non è uguale a quello che invece prediligevano e sostenevano gli utilizzatori del migliorino, del saltorelli e di tutti quelli che fanno analisi ciclica. Questo è un impianto mio personale grafico e purtroppo TradingView sembra preferire appunto permettere a queste persone di continuare a copiare e non permettermi di difendermi che favorire ovviamente chi tutti i giorni dimostra tanta competenza nei fatti e soprattutto al resto dei punti di vista. Non è un problema, assolutamente, anche perché nella realtà di fatti, ritornando fuori da TradingView su YouTube, ho la possibilità di parlare molto più tranquillamente senza dover utilizzare determinati filtri. Tornando a noi, allora, importantissimo, rivediamo la giornata. C'è stato un fantastico gap down di apertura che ha provato a perforare la media mobile a 200 periodi ma è ripartito su con oops di Williams al contrario, richiudendo appunto il gap down stesso. Successivamente abbiamo fatto un massimo qua e abbiamo rimangiato tutto quello che doveva, quasi tutto quello che era stato fatto con questa partenza a razzo. Noi come sapete operiamo mediamente dopo le 10, non abbiamo preso questo long perché continuiamo a pensare più a una chiusura di T settimanale che ad altro. Per cui il discorso è molto semplice. Non si può privilegiare privilegiare, se non in determinati momenti, posizioni short. E che cosa è successo? Quando abbiamo iniziato a scendere per bene, abbiamo poi dato vita a un secondo T-4, a partire da questo minimo qua, alla diciassettesima barra. Siamo andati su, mi aspettavo una salita attorno ai 304, se non mi ricordo male, perché è un livello algoritmico, ha fatto i 308 e quando siamo andati in violazione di questa candela qua, questa candela qua, ok, siamo entrati short e ci siamo presi una buona discesa. Il problema è che avevo messo un take profit poco sotto lo short dato per una telefonata, sono praticamente andato a chiudere, non in pari, ma con un piccolo guadagno, ma talmente piccolo che siamo in pari, ok? Successivamente, ripartenza per un eventuale inizio di settimo T-3, con sesto T-3 rialzista, peraltro. Dopo un quinto T-3 ribassista, anche questo va notato. e se da qua, effettivamente, con tutto questo tempo rialza, è possibile che sia partito un secondo T-1, attenzione perché a quanto siamo arrivati di sesto T-3? In questo momento siamo a 34 barra e potremmo teoricamente esserci sopra a meno che non andremo a superare questo livello a 12248. E i future in questo momento sono rialzisti, peraltro. Sono a... no, erano più 80, adesso siamo a più 42. Ok, comunque, siamo attorno a un 12294, quindi più o meno siamo in quest'area qua. Qui avremmo, se fossimo in continua, ma non lo siamo perché stiamo parlando di future, la possibilità che appunto sia partito il settimo T-3, ma a questo punto, da questo minimo qua e non da questo, e qui potrebbe essere piccolo raccordo. Ma su questo non ci soffermiamo. Parliamo del resto. Con un ritracciamento superiore all'80%, da questo minimo a questo massimo, siamo ritornati qua, questo non è un ciclo rialzista. Come vedete fa la prima spinta molto forte e poi inizia a scendere. Per cui il settimo T-3, se questo è ancora riuscito a essere rialzista e da qua non è partito appunto un settimo T-3, eventualmente appunto da qua, dovrà andare a un certo punto in chiusura del T settimanale che è partito qua. Che è partito qua. Ok? E la condizione è sufficiente, la conosciamo tutti, è un T-3 ribassista, per cui questa non è però ribassista, a meno che non si vada immediatamente in apertura domani sotto il minimo 12.172, e se qua è partito il settimo, facciamogli fare un rialzo di una retta e mezza, facciamogli superare quello che deve superare, e poi posizioniamoci dai massimi short. Ok? Questo per quanto riguarda il DAX, ho anche un'altra immagine qui delle medie mobili, vedete perché qui si fa una bella fatica a muoversi. Ah, tra l'altro mi ho segnato il livello che doveva essere preso, ok? 12.231 avevo di algoritmo, siamo andati a 12.204, no, aspettate, sì, ok, per cui stavamo andando persino anche meglio rispetto al trade minimo che mi aspettavo. Abbiamo fatto più punti sostanzialmente, avremmo fatto più punti sostanzialmente. Il discorso è che qua hanno voluto farsi i loro movimenti, esattamente come qua, in grande, salita e poi discesa quasi completamente rimangiata, anche qua salita e anzi discesa, poi salita, quasi si rimangia tutta la discesa, e stessa cosa identica qua. Verso il pomeriggio sto notando che stanno iniziando a fare più capricciosi. Per quanto riguarda invece il Fuzzinib, qui vi ho fatto già uno schema ancora più semplice, siamo andati a questo livello qua, ci siamo avvicinati molto a Fibonacci, a questo livello di Fibonacci, ed un altro livello di algoritmo che avevo dato questa mattina, e che cosa? Anche qui, per adesso, abbiamo un sesto T-3 neutro, non è rialzista, non è ribassista, se non ha chiuso, se ha già chiuso qua, voglio dire, alle 17, ovvero dopo 32 barre di movimento, se da qua sta per partire il settimo T-3 è rialzista, mentre invece il quinto T-3, esattamente come su DAX, è stato ribassista, e quindi è andato a chiudere probabilmente il T-1, potenzialmente, anche se la condizione era già qua, sul quarto T-3, che peraltro è stato estremamente breve, faccio notare anche questa cosa, perché siamo arrivati a 26 barre, e quindi... Per quanto riguarda l'inverso, anche qui, T-1 è partito prima che su DAX, secondo T-3, terzo T-3 è inverso, dopo un raccordo, strettissimo anche qua, come tempistica, perché siamo arrivati a 21 barre mal calcolate, non è bellissimo come movimento, successivamente partenza del quarto T-3 inverso, con appunto spinta in discesa, e adesso, probabilmente, anche qui, si riusciono in salita per chiudere il quarto T-3 inverso, e poi vedremo come reagirà il settimo T-3. Ultima cosa, vi faccio notare che qui avevo dato, come su DAX, un livello SQ-9, un livello Square of Nine di GAN, perché la ciclica non si ferma alla ciclica base, scusate, la ciclica evoluta non si ferma alla ciclica base, ma incorpora anche GAN. Per cui, caspiterina, hanno provato a superarlo 1, 2, 3, 4, 5 giorni, e non ci stanno riuscendo in nessun modo. Questa è la potenza di GAN all'interno, peraltro, della ciclica evoluta. Questo direi che è tutto. Se l'analisi vi è piaciuta, mettete un like, seguite il canale, basta seguire sul tasto segui, tutto gratuito, come vi dicevo, e se avete bisogno di maggiori informazioni, scrivete una mail a info-financialarmor.eu se desiderate, posso anche fornirvi del materiale gratuito, in modo che possiate iniziare con la ciclica, per poi arrivare alla ciclica evoluta. Buona serata a tutti, arrivederci! Buona serata a tutti!